un regalo DO questo va sul mondo eh questo è Sergio, Silvio, Pino, Letizia, Esli Prova a sentire, Esli, 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 Esli prova a sentire il peso è una roba mica... è un mattone, ma che mattone? è una roba tosta, dai apri quello che pesa lì sono i manuali delle istruzioni questo è una scatola di scarpe, è i manuali delle istruzioni, è la carta siete pronti con il video? il video lo sto già facendo la scatola non è proprio il massimo no, dato che ce la mette nell'iPhone no, quello lo attacchi nel culo però ascolta, ha detto che il Samsung è un bocchino, ci vuole un iPhone nuovo che l'abbiamo regalato noi questo tu te lo porti dietro alla sera quello lì lo puoi collegare con la Porsche che lo prende perché adesso puoi... che stronzi ti è mentre stai camminando, mentre stai camminando c'è l'attacco sotto la Porsche però la Porsche andando risponde con quella pensa a te, io lo porterei a Roxxio domenica quello lì chiami amica, non è quello lì di drrrr c'è 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 lì di drrrr no, adesso è automatico, fate solo non lo programmate l'icone whatsapp no, ma è sicuro non ho collegato direttamente al Porsche non ho collegato a lui siccome lui ha detto che c'ha un telefono che non va bene io dico che la più grossa cagata che ho comprato è stato l'S9 della Samsung che noi ti abbiamo regalato quello lì allora io ti ho regalato un digitale ma proprio quello digitale è anche digitale quello e come no? non si mette il dito? io spero che nella mia vita questo sarà l'ultimo al Samsung che ho comprato fatte fatto che questo qui questo è l'S8 il S8 di mia moglie non va un cazzo è una porcheria comunque questo qui ti infonde la calma e la tranquillità si lei risponde una macchina in tutte e due le macchine calma e tranquillità ad esempio Geometra Medei Sergio Sergio Medei Geometra no è un po' di noi abituati è un po' di noi abituati è un po' di fattore di connessione perché io mi raccordo la rubrica se mi mettono me la mettono mio figlio entra con l'iPhone in macchina mia sta già scendendo le scale si è già collegato a me mi tocca impazzire tutto partito arrivo a cercare mi tocca staccarlo io invece mi tocca staccarlo guarda che sta ancora registrando questo cazzo sei contento del nuovo iPhone? sei contento? possiamo chiudere il video? è sotto signor ok vendato venduto ok ok no 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 no